Scegliere di servire il Padre Celeste è il presupposto per superare i tormenti e le avversità della vita e anche le persecuzioni. Prima della preghiera Mariana dell'Angelus, Papa Francesco ha ricordato che nella vita del cristiano è necessario fare una scelta netta, abbracciare Dio o sottostare agli idoli, affascinanti ma illusori. Affidarsi al Signore che non delude, non ci lascia cadere, non risolve certo magicamente i problemi, ma permette di affrontarli con l'animo giusto. Questa scelta, che siamo chiamati a compiere, ha insistito il Pontefice, si ripercuote poi in tutti i nostri atti, programmi e impegni. È una scelta da fare in modo netto e da rinnovare continuamente, perché le tentazioni di ridurre tutto a denaro, piacere e potere sono incalzanti. Dio non è un essere lontano e anonimo, è il nostro rifugio, la sorgente della nostra serenità e della nostra pace. E' la roccia della nostra salvezza, a cui possiamo aggrapparci nella certezza di non cadere, che si aggrappa a Dio, non cade mai. E' la nostra difesa dal male, sempre in agguato. Dio è per noi il grande amico, l'alleato, il padre. Ma non sempre ce ne rendiamo conto. Non ce ne rendiamo conto che noi abbiamo un amico, un alleato, un padre che ci vuole bene. E preferiamo appoggiarci a beni immediati, che noi possiamo toccare, a beni contingenti, dimenticando e a volte rifiutando il bene supremo, cioè l'amore paterno di Dio. Sentirlo, padre, in questa epoca di orfanezza è tanto importante. Grazie. 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 Grazie.